dai proviamo vediamo come se la cava il miracle così giusto perché vabbè black clover no preferisce essere chiamato sera o sire ma io preferirei essere chiamato solo gian va bene la cosa del milking ma non vediamo di non essere troppo riferenti zan perché non ranking wild con il mill nella prossima stagione o fai solo standard per tuo obiettivo voglio fare solo standard per mio obiettivo sai chi è atrix sì certo nessuno fidati buonasera un botto di roba sì ma solo a me quando trovo un avversario si blocca il gioco per 10 15 secondi no anche a me ogni tanto non per 10 15 secondi però secondo te lishardo è il sapiniera e jenkins no no sono entrambi entrambe ottime carte niente sì le devo andare nel consiglio di riprovare lo sfigatec magari di nuovo la serata di quel mazzo va bene atomic grazie grazie E effettivamente con tutta questa sfiga Tutto è possibile A che ora stacchi? Tra mezz'oretta Grazie Ciao Una partita con lo sfiga deck più tardi? Sì magari per chiudere Ciao Jan sulla falsa liga del mirrogo ho creato un mazzo milniflagard su gwent L'ho chiamato milfagard Ok Oh il miracle funziona ancora E' presto per dirlo Ah pala Ultima Jan che poi si ripassa filosofia Ok Ma noi combattiamo Thalnos Ciao vecchio mio Non lo giocherò mai Però un turno 3 con avventuriero coin coin protettore d'argento non è male Te morirai subito Jan esiste maero accademia doppiato in italiano? Non ancora Non è ancora stato dubbiato Jan porti il contro l'elemento al mage di cui parlavi prima? No non ho voglia adesso Ma solo noi Solo da noi facciamo ponte per tutti i santi? Non ho idea Io non Non ho più ponti o simili Non in mia presenza Ma ricchi e morti quando uscirai in Italia? Boh Non c'è su Netflix A chi ti piacerebbe dare la voce? Non ho idea Qualcuno in Food Wars? Jan per te da quanti membri hai composto un party perfetto? Sto scrivendo un webcomic e sono deciso di fermarmi a 5 o andare a 6 In che termini Nick Blanlow? Cioè In che cosa? In Dangerous and Dragons? In In Non ho idea Va bene Pirata festaiolo Don Ancho È uguale Già ne hai visto i due episodi OVA di Food Wars? No Quelli ancora mi mancano Fantasy Classico la D&D È che dipende molto dall'equilibrio dei personaggi che hai già scritto Dipende molto da quello Quella persona non ci piacerebbe doppiare in Mario Accademia Su Bakugo starei bene Però mi sto un po' sul culo Bakugo Ninja Eه Ehm 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 Siamo in una giocata del cazzo Ma fidatevi Grazie Perfetto Già ma un gaming wild? Va bene Secondo me gli agenti farebbero fare Il tizio col microfono Nooo ma non ho minimamente l'età Tipo quello io ce lo vedrei molto meglio Tipo su Daniel ed Emma Ehm Ehm